ciao sono philip della pizzeria parma di vini benedetti a croixberg e oggi presento la nostra parmigiana di melanzane la parmigiana di melanzane viene dal sud o al nord e non si sa di preciso sicuramente degli ingredienti sono del sud come le melanzane e altri del nord come parmigiano reggiano noi usiamo bacche rosse 30 mesi dell'olio di oliva croatina al 100 per cento di cerignola biologico delle mozzarella e biologiche campane pomodori quelli che trovate in stagione mi raccomando ben maturi basilico l'aglio e la salsa di pomodoro e adesso ci avviamo la preparazione noi per comodità abbiamo già cotto le melanzane per riconoscere la melanzana cotta va schiacciata ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.